Abbiamo bisogno di libertà, abbiamo bisogno di sentirci liberi. Questo desiderio è inciso nel profondo del nostro essere, da Dio stesso, perché Dio è amore e l'amore è la libertà più assoluta. Proprio perché Dio è libero ha creato tutto ciò che esiste e proprio perché è amore, ossia comunione di persone, non esiste libertà senza volontario dono di sé. La somma dei nostri individualismi o degli abbandoni subiti forgiano gli anelli della catena che ci impedisce la gioia della libertà. Ma Cristo è venuto a liberarci da questa dolorosa schiavitù perché Dio, essendo libero, libera e salva da ogni legame di morte, facendoci partecipare al suo potere di amare.